Nel 2015, in Serie A, quello che si interessa è il nostro contributo tattico, quello che si interessa per l'Inter è che c'è l'autaro solo, che si rivola all'1-0, prima occasione dell'Azurra, e qui è andato con l'inverno, il resto di Silvestri, qui scivola, Barella, possibilità per Mellas, con Di Marco, il resto, Messa, Andanovi, Spai Di Marco, non trova i gol e non trova nemmeno la deviazione sul secondo palo, che potrebbe essere decisiva per la taglia, questi sono i 5 saltatori, la battuta dentro, Tira, 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 tiri, ma guardate, ma che assento MENCIA 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 MAGINA 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 DORMIAN DORMIAN MENCIA 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 MAMMIA MENCIA MENCIA Hcoat si agli ardini dai madonna tra le indicazioni al trappoggio linea risortali ancora Colle che manovra finisce vince con l'approccio fra Conte e Oriani fra Darmiane e Bastoni tre punti di San T